Ho desiderato molto l'incontro con voi, ma come ben sapete noi non siamo padroni della nostra vita e non possiamo disporre a nostro piacimento. Dobbiamo accettare le fragilità. Così Papa Francesco in un videomessaggio si è scusato con i pazienti e il personale del Policlinico Universitario Gemelli di Roma per aver dovuto annullare la sua visita prevista il 27 giugno in occasione del cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione dell'ospedale. Il forte mal di testa che avevo fin dalla mattina ha spiegato è andato peggiorando e si è aggiunta anche la nausea e non sono potuto venire. Penso proprio a voi malati, acuditi con amore e professionalità dal personale medico e paramedico del Gemelli. Coltivate nella preghiera il gusto delle cose di Dio. Siate testimoni che solo in Dio è la vostra forza. Voi malati che sperimentate la fragilità del corpo potete testimoniare con forza alle persone che vi stanno accanto come il bene prezioso della vita è il Vangelo, l'amore misericordioso del Padre e non i soldi e il potere. Infatti, anche quando una persona è, nelle logiche mondane, importante, non può aggiungere un solo giorno alla propria vita.